A tutti ben ritrovati, benvenuti ad uno dei nostri soliti speciali dedicati all'attualità, quest'oggi è attualità politica perché avete visto il sottotitolo dello speciale primarie 2014, primarie del centro-sinistra ad Ostuni, domenica prossima 30 marzo si vota presso la biblioteca comunale di Ostuni sulla via per Cisternino, logisticamente è bene anche avere in mente qual è il luogo topico delle primarie, lo è sempre stato, ma è la prima volta che si vota per le primarie, per le amministrative di Ostuni e quindi insisteremo in questa trasmissione sul luogo e sugli orari, si vota domenica prossima dalle ore 8 alle ore 22, i protagonisti di questa tappa intermedia perché è bene specificare anche questo, le elezioni amministrative si terranno nel prossimo mese di maggio, questa è una tappa intermedia di fondamentale importanza e vado a presentarvi gli ospiti in studio, come dicevo i protagonisti di queste primarie, la dottoressa Isabella Dattoma, ben ritrovata Isabella, l'ingegner Angelo Merpignano, ben ritrovata anche te Angelo, l'avvocato Nicola Santoro, espressione del centro-sinistra tutti e tre, provenienze diverse per quanto riguarda proprio il partito, movimento di riferimento, ma tutti concorrono nel fare una squadra che poi si presenterà definitivamente alle amministrative con il candidato sindaco del centro-sinistra. La trasmissione serve necessariamente per far capire anche ai cittadini ostunesi, ma sicuramente sarà seguita anche nei paesi limitrofi, la nostra emittente come sapete con il digitale terrestre visibile in tutta la regione e magari si accetteranno anche in questi giorni consigli dal punto di vista squisitamente mediatico, anche da coloro che non sono direttamente impegnati in questo turno di primarie, dedicato ai cittadini ostunesi che vorranno esprimere il loro parere a favore di uno dei tre candidati, presentandosi, lo ripetiamo ancora, presso la biblioteca comunale domenica prossima, muniti di documento di identificazione, una carta d'identità per capirci, una patente e senza nessun obolo questa volta, specificeremo anche questo, è fondamentale partecipare prima di tutto e quindi questa trasmissione serve anche a capire un po' meglio che cosa propongono i tre candidati. È una trasmissione sui generis, non la baseremo sulle classiche clessidre per par condicio assoluta, ma dato che ci conosciamo, perché ho il piacere di conoscere da qualche anno gli amici in studio, ci daremo intanto del tu e andremo direttamente ai telespettatori per far capire che cosa sta per accadere nella nostra città. Apriamo subito con Isabella, ho detto ben ritrovata perché in questi studi ci sei venuta spesso per parlare di diverse problematiche sociali, la gente di Ostuni ti conosce, conosce anche gli altri amici, quindi dilungarsi sulle note biografiche forse è superfluo perché quello che bisognava dire dal punto di vista proprio squisitamente biografico lo conosciamo tutti. Però per fare questo passo importante di presentarsi alle primarie e quindi con l'obiettivo di proporsi eventualmente alla sfida definitiva del prossimo maggio, c'è qualcosa in più che è accaduto negli ultimi tempi. Che cosa? Dicevi giustamente che sono venuta qui in altre circostanze per parlare di problemi più squisitamente legati alla mia professione, che è quella di psicologo-psicoterapeuta, con un occhio sempre molto attento a quelle che sono le problematiche sociali. Il fatto di essere qui in questo momento è legato al fatto che tante cose se non sei in politica non riesci a farle in maniera veramente efficace. Quindi quello che è stato il mio contributo nel sociale fino ad oggi ho pensato che si potesse fare ancora meglio stando in politica per il benessere di tutti i cittadini, per poter andare incontro a quelli che sono i loro bisogni, le loro necessità che in parte conosco e conosco abbastanza bene. Angelo, anche tu, stesso e volentieri siamo venuti a trovarti nella sede amministrativa perché hai presieduto e presiedi ancora fino alla scadenza naturale del sediamento della prossima amministrazione del Consiglio Comunale di Ostuni, è però quello che stai facendo adesso. È chiaramente dal punto di vista squisitamente personale qualcosa di diverso perché è una proposizione ben più impegnativa. Perché è maturata questa decisione? Noi stiamo vivendo le primarie del centro-sinistra anche se con un po' di ritardo e anche se in tempi estremamente ristretti, soprattutto per un motivo principale, fondamentale, quello di mantenere unito il centro-sinistra. Tra di noi c'è un impegno, c'è un accordo che è quello che tutti chi vince sarà il candidato e tutti gli altri sosterranno in maniera leale e corretta il candidato. E quindi il motivo fondamentale del nostro impegno, del nostro vivere alle primarie è proprio questo, quello di tenere unito il centro-sinistra che per questi 20 anni ha amministrato la città, che ha fatto compiere alla nostra città notevoli passi in avanti, che ha cambiato in questi anni il volto della città in positivo, compiendo delle opere strategiche, realizzando delle opere strategiche per la nostra città, che è ormai una città che è conosciuta, che è apprezzata, che è visitata da tante persone, non solo italiani, ma da tanti viaggiatori e tanti turisti che girano il mondo intero. quindi la nostra ambizione è quella di migliorare la nostra città nei prossimi anni. Riccola, anche noi abbiamo avuto occasione negli anni di incontrarci per il tuo ruolo molto importante per l'amministrazione comunale di difensore civico, sei venuto a trovarci, siamo venuti a trovarti in occasione delle relazioni, fiume in alcuni casi perché hanno tante le problematiche, però il ruolo che ti appresti a rivestire è completamente diverso o comunque ingloba anche quello che già è accaduto nel passato, cosa ti ha fatto decidere di fare questo passo importante? Mi ha fatto decidere, per questa candidatura in vero sono stato invitato da tantissimi amici e conoscenti della società civile, del mondo politico, del volontariato, i quali bontalloro vedevano in me questa figura che potesse guidare la città di Ostuni. Quello che poi alla fine mi ha indotto a decidere è stato il fatto che a un certo punto, io dico nella vita bisogna anche operare delle scelte e assumersi delle responsabilità, perché noi siamo soliti sempre delegare e poi criticare e forse quando tu vieni chiamato in causa e vieni chiamato e ti si propone un ruolo importante, forse giunge il momento in cui uno deve anche assumere degli impegni e mettere la propria faccia. Ripetiamo una questione di fondamentale importanza, voi concorrete per la stessa causa, la causa del centro-sinistra, prima di cominciare questa trasmissione dicevamo che forse non è stato pubblicizzato al meglio questo evento di grandissima democrazia e che finalmente la nostra città si confronta anche con questo passaggio intermedio. Angelo, specifichiamo quanto è importante e che tipo di rivoluzione è accaduta anche in Ostuni con queste primarie del centro-sinistra? Sì, effettivamente è la prima volta che gli ostunesi sono chiamati a scegliere il candidato sindaco di una coalizione, è la prima volta che gli ostunesi potranno individuare il miglior candidato tra tre possibilità. Quindi questa è un'occasione irripetibile per gli ostunesi e fondamentale per tutto il centro-sinistra. Noi abbiamo vissuto altre esperienze di primarie, ma si trattava di primarie che prevedevano la scelta del segretario del partito o la scelta del candidato governatore. Questa volta tocca più da vicino gli ostunesi e quindi invitiamo gli ostunesi a partecipare numerosi domenica alle primarie del centro-sinistra in modo tale che ciascuno possa essere protagonista di questa scelta. Sono, Nicola, primarie di coalizione, però non sono primarie ideologiche, cioè volendo chi, ma anche magari chi ha idee di destra, di centro, può presentarsi benissimo senza alcun problema, perché immagino questo è possibile, specifichiamolo perché non tutti sanno questo passaggio fondamentale. Sì, diciamo che è vero che sono aperte a tutti i cittadini, però in ogni caso l'elettorato che viene dovrebbe impegnarsi perché sottoscrive una dichiarazione di impegno a sostenere il centro-sinistra. Quindi è vero che è un discorso aperto a tutti quanti e a tutti i cittadini, ben vengano, però è anche opportuno sottolineare questo fatto che comunque c'è un impegno a sostenere il centro-sinistra. Una condivisione dello schieramento e una condivisione dei programmi, ovviamente. È certo. Isabella, il discorso delle primarie, per chi come te è abituata ad interessarsi anche di alcune dinamiche sociali, ti immaginavi di dover supportare questo ulteriore passaggio e gravoso dal punto di vista squisitamente fisico, che cosa comporta come mentalmente? Io non immaginavo che potesse essere così entusiasmante, in verità, nel senso che stiamo raccogliendo, sto raccogliendo tantissimi consensi e mi rendo conto che tantissime persone che io non conoscevo, invece mi conoscono, mi conoscono bene e mi apprezzano. È faticoso nel senso che poi mettere insieme famiglia, professione e queste cose non è semplicissimo. Ci sono state moltissime giornate in cui non ho pranzato e sono arrivata direttamente a cena senza aver toccato niente tutto il giorno. Però è veramente molto entusiasmante. Molto entusiasmante soprattutto nell'idea di poter veramente fare delle cose. condivido quello che diceva precedentemente Angelo, che sono state fatte tante cose ad Ostuni. Non siamo qui a demonizzare assolutamente tante iniziative molto interessanti, molto importanti, una politica che ha funzionato per molti versi. Io ho delle idee diverse che condivido con il movimento e che probabilmente essendo proprio nuova a tutto il discorso politico ho sempre visto più da cittadino e che quindi evidentemente ho dei sogni nel cassetto molto forti che mi aiutano a sentirmi sempre molto carica di entusiasmo e molto piena di voglia di fare. Ritorneremo sulla logistica delle primarie in chiusura di trasmissione perché sfrutteremo anche questo spazio proprio per pubblicizzare l'evento di domenica prossima in tutti i dettagli. Però adesso veniamo proprio in chiave propositiva alle motivazioni serie delle vostre candidature. Uno di voi tre sarà inevitabilmente il candidato sindaco del centro-sinistra, probabilmente, continuiamo a utilizzare al verbi, potrebbe essere il nuovo sindaco di Ostuni. in una fase, Nicola, molto molto particolare della nostra storia, non certo locale, anche locale, in cui buona parte dell'elettorato, se non tutto l'elettorato, ha bisogno di grande speranza, in tutti i sensi, speranza che sostituisce le promesse del passato, dei ventenni fa, eccetera, ci vuole una speranza che nasca anche sulla base di cose concrete ovviamente, ma anche della possibilità di programmare a lungo termine. In tal senso tu che cosa propone? Caro Francesco, quello che tu dici è vero perché è la realtà, tant'è che quando io leggo di critiche che riguardano i programmi, perché noi dicono che non avremmo presentato programmi lunghi, seri, compositi, allora io dico che programmi se ne possono fare tutti, sono tutti uguali, io che ho letto ultimamente e continuo a leggere, i programmi centro-destra, centro-sinistra, sono tutti uguali. Quello che invece noi dobbiamo, il vero programma che noi dobbiamo presentare ai cittadini è fatto di piccole cose, di cose concrete, perché noi abbiamo i bisogni e le esigenze del cittadino che vanno soddisfatte nell'immediato. L'esperienza di difensore civico sotto questo aspetto mi aiuta tantissimo, perché il contatto quotidiano che io ho avuto con la gente negli anni in cui ho svolto quella funzione che è stata bellissima, che mi ha tanto dato sotto l'aspetto proprio, soprattutto umano, ti fa comprendere il bisogno del cittadino che non vuole la grandissima opera pubblica da andare a inaugurare, tagliare il nastro, anche quella per carità è importantissima, ma chiede che gli venga risolto il suo problema e i problemi oggi sono, ecco perché uno dei punti fondamentali che io ho messo nel programma, che è quello della solidarietà, cioè è questo, chiede, bisogna intervenire, migliorare i servizi sociali che per carità sono già ottimi in Ostuni, rispetto a tante altre realtà da me conosciute, Ostuni ha ottimi servizi sociali, però bisogna ancora migliorarli, migliorarli proprio per andare incontro alle esigenze non solo degli anziani, dei diversamente abili, ma soprattutto della gente disagiata, della nuova povertà, cioè questo fenomeno che si sta verificando da 2-3 anni a questa parte, tante famiglie che chi opera nel volontariato sa benissimo, che purtroppo hanno bisogno anche delle cose primarie, dei beni primari. Un'amministrazione comunale non può direttamente dare lavoro, ma può creare queste opportunità, la vostra esperienza legata alla sensibilità, alla disponibilità all'ascolto, pensano che debbano essere per forza di cose le caratteristiche del nuovo sindaco di Ostuni necessariamente o no? Sicuramente le campagne elettorali basate sulle promesse non funzionano più, io ho vissuto già in passato delle campagne elettorali in prima persona e sono fortemente convinto che la gente non si lascia più abbindolare, quindi fughiamo questo dubbio che si possano fondare le proprie campagne elettorali su cose che si promettono e che non si possono realizzare. Quindi sono d'accordo con Nicola sul fatto che comunque i nostri programmi devono essere precisi, puntuali, dettagliati e il nostro programma unitario tra l'altro deve essere un programma che deve dire in maniera dettagliata quello che dobbiamo e che vogliamo fare e nei tempi in cui vogliamo realizzarlo. Per quanto riguarda questa campagna elettorale delle primarie, il Partito Democratico ha voluto, io quindi rimando al mittente, le critiche che ci hanno fatto in questi giorni scorsi, le primarie non sono assolutamente un esercizio, una prova muscolare, sono una prova di confronto, sono un momento di ascolto anche della città e sono basate sulle idee, sui programmi, sulle cose che vogliamo fare. Io nella presentazione alla città che c'è stata nei giorni scorsi ho lanciato delle idee precise, dei suggerimenti, delle linee programmatiche che ovviamente rimangono un canovaccio, rimangono delle proposte perché poi saranno e devono essere approfondite sia con il resto della coalizione sia con la cittadinanza attiva. Noi dobbiamo ascoltare le associazioni, il volontariato, il terzo settore, dobbiamo coinvolgere i sindacati, le categorie, le associazioni che sono presenti sul nostro territorio per definire insieme a loro le priorità, anche se in tempi estremamente ristretti. Per quanto riguarda invece il lavoro, il lavoro è la richiesta fondamentale che la gente ci fa non solo in campagna elettorale ma anche tutti i giorni, io faccio politica da diverso tempo e la gente oggi ti chiede lavoro, chi è alla ricerca del primo lavoro ma anche chi ha perso purtroppo il lavoro in questi anni di terribile crisi. Il comune non può offrire posti di lavoro, ha poche leve in questo settore, in questo campo, però può creare l'habitat, può creare il terreno giusto su cui sia il pubblico che il privato può investire e per questo uno dei punti fondamentali del mio programma, definiamolo così, è proprio quello di creare le condizioni perché Ostuni possa diventare una città che attrae sia i finanziamenti pubblici, così come è accaduto nel passato, ma potenziando questo settore e questo campo, quindi creando uno specifico settore che si dedichi esclusivamente alla progettazione, alla redazione, alla rendicontazione dei progetti che possono essere finanziati con fondi strutturali, con fondi europei, con fondi regionali e nello stesso tempo anche creare un habitat ideale per poter attrarre gli investimenti dei privati e quindi essere da supporto al privato che vuole investire o che ha già investito in Ostuni e quindi essere un alleato dell'imprenditore illuminato che crea e che vuole creare e che vuole mantenere sul nostro territorio posti di lavoro. Rimaniamo sull'argomento Isabella, tu ti appresti a rappresentare politicamente delle fasce sociali molto particolari che professionalmente già hai rappresentato e rappresenti in maniera diversa con la consueta, col consueto stile, con la consueta attenzione o con qualcos'altro? Il qualcos'altro per me significa tutto quello che è stato detto finora, nel senso che secondo me ci sono due piani e due livelli su cui bisogna andare a lavorare, per un verso un discorso di rilancio di Ostuni, rilancio significa andare a creare delle condizioni migliori affinché attraverso fonti di finanziamento eccetera, settori come quello del turismo, dell'agricoltura collegato fortemente ad un discorso culturale devono essere portati avanti per creare veramente uno sviluppo molto forte di Ostuni che quindi significa nuovi posti di lavoro, che quindi significa più occupazione eccetera. Dall'altro però c'è un discorso che è legato a lavorare su queste fasce assolutamente deboli che sono per esempio quelle di chi oggi ha difficoltà a mangiare, allora per esempio la creazione di un banco alimentare che lavori in maniera sinergica con le varie associazioni di volontariato, non solo attraverso quello che arriva dalla CEI, io sono nella Croce Rossa da tantissimo tempo, so come funziona, so come funziona la Caritas che oggi purtroppo si deve approvvigionare dalle varie chiese, dalle varie parrocchie che io pensavo per esempio all'idea di creare dei contatti, delle sinergie con i supermercati locali affinché tutta quella roba in scadenza nei banco frigo possa essere offerta per un banco alimentare alla gente che veramente non ha nulla da mangiare a pranzo. Il problema sai qual è Francesco? Che di questa gente, moltissima gente, è talmente dignitosa che molti di noi non lo sanno neanche in che condizioni versano, allora per un verso andare a lavorare su queste fasce, andare a lavorare non solo sulle fasce di chi ha proprio difficoltà quotidiana a portare avanti, a riempirsi la pancia in qualche maniera, ma anche sulle famiglie che hanno difficoltà nella gestione dei figli, dell'anziano e del figlio disabile e che oggi sono sole, sono veramente lasciate per molti versi allo sbando, quindi creare dei punti di aggregazione dove loro possono sentirsi sostenuti, aiutati anche nel confronto con altre famiglie che vivano delle stesse e delle analoghe situazioni, quindi da una parte questo lavoro che deve essere fatto io ritengo su chi in questo momento ha grandissime difficoltà, però contestualmente deve essere fatto un grande rilancio di Ostuni che possa creare occupazione attraverso tutte queste forme, ma ovviamente Ostuni è una città turistica, è una città che vive prevalentemente di agricoltura al di là di quello che tutti quanti pensano, quindi queste due cose unite insieme e collegate ad un discorso culturale, attraverso un discorso ovviamente di destagionalizzazione fatto in una maniera diversa da come è stato ipotizzato finora, io ritengo che possa veramente rappresentare un volano per il paese di Ostuni. Rimaniamo ancora su questi argomenti, ma entriamo proprio nello specifico di una campagna elettorale che deve necessariamente rispondere anche a delle esigenze degli elettori, in tanti mi raccolgo professionalmente alcuni commenti, si chiedono gli elettori di, ma sarebbe bene se non conoscere proprio le persone specifiche, avere un'idea di squadra del prossimo sindaco, voi siete tre persone squisite, non lo dico per esperienza diretta con voi, mi è facile immaginare che chiunque, chi tra voi sarà il candidato sindaco o eventualmente il sindaco farà tesoro anche delle altre esperienze, un'idea di squadra, perché amministrare da soli è impossibile, lo era ieri ma ha maggior ragione oggi, che tipo di idea di squadra ti sei fatto? Assolutamente, non si può gestire una città impegnativa, dico io, quale Ostuni da soli, è chiaro che non solo la squadra della Giunta, ma il discorso deve essere ancora più allargato, tant'è che dove dovessi diventare io sindaco, una cosa che sicuramente vorrei fare è dare una delega a tutti i consiglieri comunali, cioè a ciascuno dei consiglieri comunali, addirittura anche dell'opposizione, cioè in maniera tale che ognuno possa occuparsi di una problematica e seguirla, quindi il discorso della squadra è chiaro, è inutile dire, bisogna essere sempre sinceri e diretti con la gente, a me piace essere trasparente, è inutile dire come diceva qualche amico nostro che io mi sceglierò tutti i tecnici all'esterno, prenderò le migliori professionalità, è un discorso quello dei tecnici che a volte funziona, il più delle volte non funziona, lo abbiamo visto anche a livello di governo centrale, è chiaro che tu nel momento in cui devi formare la squadra devi fare i conti anche con chi ti ha sostenuto, con le forze politiche, io dico l'unica attenzione che chiaramente un sindaco deve avere nel momento in cui forma la squadra, deve avere la persona giusta al posto giusto, cioè ci deve essere la competenza ai servizi sociali, la dottoressa Dattoma è competente in materia di servizi sociali, allora i servizi sociali, hai un grande, un esperto tecnico per il settore dell'urbanistica e allora devi mettere l'esperto al settore dell'urbanistica e così via, per la cultura. Angelo, io ho detto, siccome ieri mi hanno intervistato e dicevano quali sono i pregi e i difetti dei tuoi avversari, ho detto sono per carità ottimi candidati, quindi il centro-sinistra ha questa fortuna di avere questi due ottimi candidati e quindi fossi io, sarei contento di questi candidati che mi vengono proposti. Però dovevo dire qualcosa anche per quanto riguarda i difetti, chiaramente i difetti sia per Isabella che per Angelo è difficile trovarne, è quasi impossibile. E quindi come difetto ho detto no, lui svolge benissimo la funzione di Presidente del Consiglio come persona super partes e quindi sicuramente quello è un ruolo che può… Allora, lasciamo stare il concetto di squadra, forse potremmo parlare di equip chirurgica, perché il malato l'ha operato, parliamo della maggior parte della cittadinanza in stato di disagio, bisogna anche intervenire chirurgicamente forse con una bella squadra, Angelo o no? Sì, io volevo infatti intervenire sulla questione della squadra, anche perché dai cittadini e in modo particolare dai giovani ci giunge una forte richiesta che è quella del rinnovamento, della svolta generazionale. Quindi su questo punto io sarò estremamente chiaro e categorico, quindi sono d'accordo con Nicola che bisogna abbinare le competenze, le professionalità, le esperienze acquisite, ma anche all'esperienza politica, perché sicuramente non farò il concorso come viene chiesto anche sui social network dal Movimento 5 Stelle di Ostuni che chiede il concorso pubblico per la scelta degli assessori, mi sembra un'assurdità, mi sembra una cosa fuori luogo, quindi tra l'altro sono contrario ai governi dei tecnici, ma bisogna mettere insieme le competenze all'esperienza politica e all'esperienza amministrativa, in modo che la macchina parta, la squadra parta e parta immediatamente dal giorno dopo le elezioni. Isabella, tu sindaco che ruolo daresti a questi due maschietti? No, chiaramente allarghiamo anche le eventuali idee che hai di cosa significa... Io l'idea che ho è che sicuramente quella che gli assessori devono essere, sicuramente delle persone qualificate all'interno del settore, Nicola e Angelo hanno detto le stesse cose in un discorso sicuramente di rinnovamento, però aggiungerei una piccola postilla che per me è di grande importanza, e cioè ogni assessore deve sentirsi il sindaco di quell'assessorato, cioè deve avere pieno potere decisionale che poi viene condiviso una volta ogni dieci giorni con il sindaco, ma deve avere pieno potere all'interno. È chiaro che ci sono degli assessorati che hanno bisogno di caratteristiche imprenditoriali particolarmente importanti, come può essere l'assessorato al turismo, quello alle attività produttive, quindi individuare fra di noi la personalità che possa avere più queste capacità, io ritengo che sia di particolare importanza. Non mi far attribuire ruoli in questo momento perché avrei estrema difficoltà, sono due persone che stimo moltissimo e che ho grande piacere ad avere al mio fianco, uno a destra e uno a sinistra in questo momento, ma ad avere al mio fianco in questo momento. Guardate, è difficilissimo condurre queste trasmissioni, aspetto il confronto diretto con la controparte che sarà sicuramente giornalisticamente più valido dal mio personalissimo punto di vista perché è difficile farvi, non litigare perché è un termine che in televisione per fortuna negli ultimi tempi non ci riuscirei. Questa comunione di intenti, il fatto di correre per la stessa causa come dicevo all'inizio, però se posso punzecchiarvi un po', a un certo punto la gente che viene alle primarie dovrà necessariamente scegliere perché non vi state presentando in squadra, farete la squadra, farete magari gruppo subito dopo, ma nelle primarie bisogna necessariamente scegliere, è proprio bello per questo motivo. E allora a questo punto spendiamo qualche parola proprio sulla persona, perché i programmi dicevi giustamente qualche istante fa sono sovrapponibili anche a quelli delle altre coalizioni, quindi lo scarto deve essere proprio la persona a darlo, deve esserci questa fiducia particolare, perché tu presumi di essere più rappresentativo di loro due Nicola? Io ho detto che loro sono due ottimi candidati, con le loro esperienze e le loro professionalità, io dico forse l'elettorato potrebbe scegliere me perché magari ho una maggiore, più specifica competenza in ambito giuridico amministrativo, perché ritengo che fare il sindaco e ripeto sempre di una città impegnativa quale Ostuni comporta delle conoscenze che vanno, che devono essere soprattutto di carattere giuridico e amministrativo e poi viene tutto il resto. Angelo questa presunzione legittima, una presunzione veramente positiva di candidarsi per rappresentare confrontandosi con altri candidati, nasce dalla certezza di avere più chance forse rispetto agli altri e più affidabilità immagino, non lo so, non vi riuscirò a farvi litigare, ma quantomeno a contrapporvi un pochino. Io sono, devo purtroppo dissentire da questa massima che sta emergendo, emergendo da questo nostro incontro di stamattina, perché non sono convintissimo del fatto che i programmi possano essere sovrapponibili, ci sono delle cose che ci caratterizzano e ci sono delle cose che ci distinguono, quindi sono convinto, fortemente convinto del fatto che i cittadini non ci sceglieranno perché sono senza capelli o perché sono più alto, sono più bello, assolutamente. Ci sceglieranno sulla base anche delle cose che in questa campagna elettorale abbiamo detto i cittadini, sul modo in cui ci siamo presentati i cittadini, quindi sulle proposte che anche abbiamo fatto ai nostri elettori. Perché i cittadini dovrebbero scegliere me? Perché potrebbero investire su un giovane, su una persona che ha appena 40 anni e che nello stesso tempo ha maturato un'esperienza amministrativa tale che gli può consentire di essere il sindaco di una città complessa come è quella di Ostuni. Quindi non siete proprio la stessissima cosa, tu in particolare Isabella sei profondamente diversa da loro e ce ne accorgiamo a livello proprio mediatico e quindi anche tu voglio dire, insistiamo su questo confronto, cioè la specificità della tua candidatura, venire alle primarie per scegliere te anziché loro due, perché? Non sono io che lo devo dire, io aspetto quello che vogliono i cittadini e per me sarà molto importante verificare se io con la mia personalità, per quello che ho fatto, per quello che trasmetto posso essere scelta o meno dei cittadini. Non sono io che devo parlare in questo momento. E allora insistiamo ancora sui programmi, vediamo ad un aspetto, sto girando intorno a voi, voi siete tranquillamente seduti, io sono in piedi anche perché seduto come voi si pronuncerebbero certi aspetti fisici che bene non evidenziare più di tanto, voi siete tutti e tre in perfetta forma e quindi già pronti anche per amministrare, perché è anche una fatica fisica a amministrare, diciamoci la verità. Un aspetto topico di qualsiasi campagna elettorale, a maggior ragione per la nostra città, la città di Ostuni, è le idee che si hanno sul turismo, questa parola che significa tutto e non significa niente se non si dà contenuto alla parola stessa. Cosa lecitamente possiamo attenderci nei prossimi anni da questa città rispetto a ciò che già si sta facendo e ciò che magari si potrebbe fare dalla tua candidatura Nicola? Allora intanto voglio puntualizzare un attimo quello che diceva Angelo in merito ai programmi, forse non mi sono espresso bene, il fatto di dire che i programmi sono tutti uguali non significa che io non do peso o rilievo ai programmi, io ho detto soltanto che i programmi devono contenere cose, proposte concrete, proposte realizzabili e non grandi cose, utopie che mai verranno realizzate, questo era quello che intendevo dire. Per quanto riguarda il turismo è chiaro che dopo l'agricoltura che è stata sempre la nostra fonte primaria di reddito e il turismo è quello che porta ricchezze e risorse al nostro territorio. L'idea alla quale ci sto pensando è quella proprio di cercare di coniugare turismo e agricoltura, cioè un rilancio dell'agricoltura sicuramente ci vuole perché il settore è in crisi, però nell'agricoltura noi abbiamo questo grandissimo patrimonio inestimabile che sono gli ulivi secolari. L'ulivo secolare può costituire secondo me un valore aggiunto alla offerta turistica che noi facciamo. Quindi studiare, io ho anche delle idee, studiare qualcosa per valorizzare al massimo l'ulivo e farlo diventare proprio come discorso da inserire nel turismo. Quindi ho attraverso le visite guidate agli ulivi, ho anche pensato per esempio a una settimana da dedicare a una festa dell'ulivo o a un'emozione chiamata ulivo, cioè una settimana proprio nella quale c'è questa valorizzazione dell'ulivo e quindi organizzare degli incontri, organizzare anche sotto l'aspetto gastronomico. Quindi questa promozione dell'ulivo e dell'olio d'oliva non solo in Italia ma nel mondo. Poi l'aspetto turistico, è chiaro, le cose fondamentali sono il salotto della città, la piazza sicuramente va meglio curata, vanno messe delle regole forse più precise agli esercenti in maniera tale che poi la stagione in piazza non finisca il 31 agosto o il 10 settembre ma continui per tutto l'anno. La cura del centro storico, sicuramente il centro storico va curato, va tinteggiato. Io dico è come quando noi in casa aspettiamo un ospite, quindi quando aspettiamo un ospite mettiamo in ordine la casa, mettiamo tutto per bene e così dovremmo fare noi per il centro storico. Quindi inizio stagione metterlo in ordine, curarlo, abbellirlo e continuare tutto l'anno in questa maniera, perché il centro storico chiaramente è una delle cose che attrae i turisti in Ostugno. E poi ci sono altre cose ma non voglio si rubare tempo. Non voglio essere campanilistico perché giornalisticamente non è opportuno, però inevitabilmente Angelo mi viene di chiedervi sempre sul discorso turistico come si fa a non cedere il passo nei prossimi anni in realtà limitrofe che stanno galoppando e stanno tentando di strapparci anche le presenze, la ricettività turistica che era un nostro cavallo di battaglia, come si fa a concorrere con loro? Sull'idea del turismo il Partito Democratico ha lanciato una proposta molto precisa nei giorni scorsi e che stiamo valutando e stiamo approfondendo, quella di unificare turismo, attività produttive e cultura in un unico settore, in un'unica cabina di regia, questo anche nell'ottica della riduzione del numero degli assessori. Quindi pensare ad un'unica figura che coordini questi tre settori che devono dialogare tra di loro, che devono creare sinergie tra di loro per poter far crescere i flussi turistici e intercettare i flussi turistici che devono giungere nella nostra città. Un'unica cabina di regia che deve mettere insieme, deve mettere in sistema i comuni della Bassa Morgia, della Costa e della Puglia centrale, un'unica cabina di regia che deve mettere intorno ad un tavolo gli operatori turistici della nostra città, un'unica cabina di regia che deve agevolare, deve creare i collegamenti tra Ostuni e gli aeroporti di Brindisi e di Bari. Quindi vanno studiati, vanno realizzati concretamente in modo da offrire al turista che arriva in aereo il modo, il mezzo per poter raggiungere la nostra città. Un'unica cabina di regia che mette insieme anche tutti i settori produttivi e anche tutti i beni culturali che sono presenti nella nostra città per avere un'offerta turistica, per offrire, per proporre un'offerta turistica integrata. Ostuni deve presentarsi nella sua globalità che è fatta di beni culturali, che è fatta di beni archeologici, di beni paesaggistici e penso al museo, penso al parco regionale delle Dune, penso ai beni anche ecclesiali che sono presenti nella nostra città, ma anche ai beni paesaggistici come diceva Nicola. I nostri ulivi, i nostri uliveti sono dei beni monumentali, sono dei beni paesaggistici che vanno comunque messi e inseriti in un sistema globale di offerta turistica. Isabella, non vorrei sembrarti cicisbeo, si dice in questi casi, ti sarà stato detto un migliaio di volte, milioni di volte sicuramente, già avere un sindaco donna della tua presenza scenica è un'attrattiva turistica non indifferente, ma al di là della battuta. Ma forse non c'è mai stato un sindaco donna. Al di là della ovvia battuta, io immagino che tu abbia le idee molto chiare su quello che dicevano anche loro due e se hai qualche novità rispetto anche a quello che dicevano loro due. Io ho lavorato nel turismo, ho partecipato a delle bit, abbiamo partecipato, anzi siamo stati fra i promotori, sono stata fra i promotori di un contratto di programma 15 anni fa con Fasano e Carovigno. Non se ne fece niente, all'epoca la politica non ci credette e la realtà è che Fasano da quel momento in poi è decollata, è decollata in una maniera straordinaria ed è sotto gli occhi di tutti. Ora il discorso è questo, una serie di cose, io penso a questo proposito. Intanto due eventi molto forti durante l'anno, al di fuori del periodo estivo, ci devono continuare a portare il turismo perché il turismo possa durare in maniera più continuativa lungo tutto l'arco dell'anno. A questo proposito per esempio il nostro movimento si è espresso come idea per poter realizzare una sorta di festival dell'olio d'oliva, inizialmente a carattere nazionale, dove premiare il migliore olio d'oliva nazionale e successivamente ad ampliare a livello internazionale addirittura. Tu immagina questo evento che venga fatto nel mese di marzo e un altro evento a cui io credo fortemente può essere di natura cinematografica, fatto per esempio nel mese di ottobre e novembre all'interno del quale coinvolgere Puglia Commission che neanche a farla apposta, ogni volta che deve realizzare dei film si rivolge all'Eccese, si rivolge al Barise e noi veniamo continuamente bypassati un po' da questa situazione. Ora questi secondo me dovrebbero essere due eventi molto forti, molto significativi che andrebbero veramente a creare una forte destagionalità. Però abbiamo un grosso problema, secondo me, che è legato ad una scarsa capacità di creare una calda accoglienza al turismo. Per esempio è stato adottato dal Comune già da un anno fa quello che è il regolamento Borgostuni che era fatto da un'associazione di commercianti eccetera. A questa adozione però non è stata data un'immediata esecuzione. Loro portano avanti delle idee molto significative e molto importanti che io metterei in atto immediatamente nel momento in cui dovessi diventare sindaco. Uno. Due. Una riorganizzazione dell'attuale IAT ex APT dove devono confluire tutte le associazioni, tutti coloro che si occupano di percorsi turistici perché rendiamoci conto il turista che arriva ad Ostuni non sa cosa deve fare. Deve andarsi a ricercare in più situazioni quelli che possono essere dei percorsi, delle visite, quello che c'è da vedere eccetera. Quindi io concentrerei tutto lì dentro mettendo anche una persona che sappia parlare le lingue perché noi abbiamo ormai un turismo, c'è stato un turismo grazie al vecchio assessore Ostuni ha avuto un numero di turisti altissimo l'anno scorso. Abbiamo turisti stranieri quindi abbiamo bisogno di parlare le lingue. Quindi una riorganizzazione da fare nell'immediato. Allora condivido l'idea di Nicola che dice noi dobbiamo partire da delle cose in tanto semplici, di immediata fattibilità, di immediata realizzazione, ma che facciano la differenza. Allora il discorso dell'accoglienza è un discorso di grande importanza. Tu immagina cosa significa incontrare subito i commercianti per calmirare i prezzi. È un fatto di grande rilevanza questo. Questo ed altro. Doto con grandissimo. Prego. Posso aggiungere una considerazione? Per quanto riguarda, per poter intercettare i flussi turistici, per poter attrarre in Ostuni i turisti non solo a luglio e agosto ma durante tutto l'anno, più che una competizione con i paesi limitrofi e quindi il riferimento a Fasano, a Cisternino, anche allo stesso Carovigno che è cresciuto nell'ultimo tempo. Secondo me bisognerebbe puntare su una grande cooperazione, un coordinamento tra queste realtà che sono diverse ma che possono essere complementari. In questa direzione si è mosso già, si sta muovendo già, sta mettendo già ai primi passi il sistema turistico locale. Quindi c'è già un protocollo d'intesa tra i comuni della Valle d'Itria. Quindi il turista che viene a visitare i trulli di Alberobello o le grotte di Castellana visiterà anche il centro storico di Ostuni, il parco regionale delle dune costiere e magari potrà trascorrere anche qualche notte nelle strutture di eccellenza di Fasano. Io penso che possiamo sottoscrivere benissimo tutti, anche io che non sono candidato alle primarie. Vedi quante belle idee nel centro-sinistra. Ecco, io infatti adesso noto intanto con grandissimo piacere che avete le idee chiarissime, però rimanendo il fatto che questa trasmissione è per le primarie di domenica prossima, andrei anche un pochino oltre. Perché? Perché mentre voi vi confrontate per le primarie, il centro-destra ad esempio continua la campagna acquisti, leggiamo in questi giorni, e presume ovviamente di vincere le elezioni. Per cui cerchiamo di andare oltre e proponiamoci ai telespettatori, perché inevitabilmente chi verrà a votare le primarie, si spera, si presume, andrà anche a votare, portando anche altre persone, le amministrative vere e proprie. Per cui andiamo oltre Nicola, andiamo direttamente al confronto con gli altri candidati, non diciamo centro-destra perché ci sono anche altri candidati sindaci, con gli avversari proprio canonici, perché voi non siete avversari canonici. Andiamo direttamente oltre. Allora ti dico, io ho letto, ho visto di recente un manifesto del carissimo amico Gianfranco Coppola, tra l'altro mio fraterno amico, dove si parlava di trasparenza, meritocrazia e legalità. Dico, proviene dal centro-destra, questi sono valori che il centro-destra ha distrutto, perché a ben vedere se la meritocrazia in Italia negli ultimi anni è venuta meno, è scomparsa, forse qualche colpa il capo del centro-destra ce l'ha, il quale ci ha proposto negli anni consiglieri comunali, regionali, parlamentari, ministri, addirittura ministre che sicuramente non avevano la competenza, ma altre qualità. E ci vengono a parlare di meritocrazia, legalità è un altro discorso fondamentale che il centro-destra ci mostra questo valore che però loro calpestano. Noi abbiamo sempre nel caso di specie questo signore Presidente, ex Presidente del Consiglio, il quale condannato, pluripregiudicato, sentenze definitive che valgono per tutti, questo signore addirittura dice no, io me ne infischio, c'è l'ultima della Cassazione, dice no, io mi voglio candidare alle europee, quindi l'hanno dovuto bloccare. Quindi dico, questi valori noi del centro-sinistra li abbiamo innati, sono congeniti in noi, quindi non c'è bisogno di pubblicizzarli. Noi, i valori nostri sono diversi, vanno verso la condivisione, vanno verso la solidarietà, come dicevo prima, vanno verso l'equità, queste sono le cose. Ecco perché gli amici del centro-sinistra, io poi già sento dire, perché contattando poi in questo periodo anche delle primarie tu ti trovi a contattare soprattutto ragazzi e quindi ci sono promesse, promesse di lavoro e questa è una cosa che io ho evidenziato nel mio intervento durante la presentazione e dico stiamo attenti perché in questo periodo critico, come dicevi tu all'inizio della trasmissione, non ci si può prendere gioco dei bisogni della gente, non si possono promettere posti di lavoro sapendo che poi queste promesse non possono essere mantenute. Quindi soprattutto con i giovani, non scherziamo, i giovani tutti abbiamo figli e sappiamo le difficoltà. Quindi questo dico agli amici del centro-destra, facciamo una campagna elettorale che sia quanto più leale possibile, sui programmi, sulle cose concrete, non sulle mistificazioni. Angelo, tu hai detto che non è un atto di forza il confronto tra di voi e le primarie perché non serve contarsi, però serve dare anche agli avversari storici un risultato che sia comunque l'impatto o no? Certamente importante è il risultato anche in termini numerici, chi prende un voto in più vince tra di noi, sicuramente, nel massimo rispetto di ciascuno di noi e nella convinzione che comunque tra di noi c'è un minimo comun denominatore che ci lega e che ci mette insieme nella coalizione. Per quanto riguarda invece il centro-destra, voglio mettere in evidenza questo aspetto che viene molto spesso tralasciato e non viene considerato anche dai mezzi di comunicazione. Il centro-destra di Ostuni è da sei mesi in campagna acquisti, ogni giorno leggiamo all'apertura di comitati, inaugurazione di sedi, di associazioni, qualche iniziativa pubblica su qualche tema ma senza grandi idee, ma sono sei mesi che aspettiamo di conoscere qual è il programma del centro-destra. Persino ho letto nei giorni scorsi che viene annunciato a breve verrà presentato il programma del centro-destra, siamo ormai alla vigilia delle elezioni e noi siamo in trepidante attesa di conoscere quali idee hanno della città, del futuro, dei prossimi anni sul nostro amico Gianfranco Coppo. Questo per mettere in evidenza comunque che è passato tanto tempo ma ancora non è venuto fuori un progetto, ancora non è venuto fuori un disegno generale da parte dei nostri competitor e quindi a differenza nostra noi siamo disposti e disponibili a fare una campagna elettorale in piena serenità, in piena correttezza e lealtà, ma dobbiamo partire anche con obiettività dai risultati che abbiamo raggiunto in questi anni e dobbiamo puntare a presentare le cose che vogliamo fare. Isabella, essendo tu l'unica dei tre che non ha una derivazione politico-partitica, io immagino abbia avuto anche dei corteggiamenti, tanti sicuramente nella tua vita, ma corteggiamenti politici anche da un'area ben specifica, cosa invece ti ha fatto propendere a giocare per una squadra che ha proposto le primarie anziché per un'altra? Come vedi questa eterna contrapposizione fra centrodestra e centrosinistra e se a motivo di essere ancora oggi ostuni con le persone che rappresenteranno queste due posizioni? Io ti ringrazio molto per questa domanda perché io non mi sono mai esposta politicamente, ma ho sempre osservato con grande criticità, devo dire, destra e sinistra, sentendo la libertà di potermi esprimere serenamente rispetto a quello che pensavo che era giusto dell'una o dell'altra parte. Io oggi mi sento una donna orgogliosa di essere di sinistra perché negli ultimi anni purtroppo a livello nazionale la cultura, il messaggio che è stato fatto passare anche alle giovani generazioni è quello di una donna uguale ad escort. Le donne di destra purtroppo si sono connotate per avere dei passati molto ambigui, molto discutibili e questo mi ha fatto in qualche modo dispiacere di poter vedere delle donne che si mostrassero in questa maniera. Io ritengo che invece nel centrosinistra al contrario ci siano sempre state delle persone dai valori saldi con degli ideali molto forti che ho sempre molto apprezzato, quindi questo mi rende assolutamente orgogliosa in questo momento di essere una donna di sinistra. Perfetto, io devo dire e ve lo dico con tutta sincerità che non avremo più occasioni perché ormai in combo nelle primarie, però avremmo voluto veramente fare una… Potremmo ritornare tutti e tre per la campagna elettorale. Quello sicuramente, ma io già infatti vi stavo per estorcere proprio un impegno formale a non aspettare la vigilia… Sicuramente per una campagna elettorale a tre, una campagna elettorale che ci vedrà tutti e non aspettiamo l'ultimo giorno della campagna elettorale, poi dopo per ritornare a vederci perché anche io voglio fare un servizio alla mia città in base alla mia professione, è quello che sto facendo oggi con voi. Sono sicurissimo che ci sono colleghi ben più validi che avrebbero fatto delle domande più puntuali su situazioni specifiche della nostra città, ma ce ne sono talmente tante. La cosa che ci premeva evidenziare è che c'è questa opportunità, chiamiamola così, questa opportunità democratica delle primarie e che va sfruttata, va utilizzata dal popolo di centro-sinistra proprio per decidere chi sarà il candidato sindaco della coalizione, ma comunque è un evento rivoluzionario per il nostro territorio perché è la prima volta che ci si confronta con le primarie per scegliere proprio l'eventuale prossimo amministratore. Io vi lascerei come canonicamente accade in questo genere di trasmissioni non tanto l'appello al voto, ma l'appello alle primarie che potrebbe essere fatto da uno di voi, vale anche per gli altri due, però rispettiamo questa per condicio e facciamo questo appello logistico anche Nicola, aiutami proprio a individuare logisticamente questo evento. Allora l'appello è a tutti gli elettori di venire domenica prossima di recarsi presso la biblioteca comunale, dalle ore 8 del mattino fino alle ore 22, muniti di carta di identità o documento per essere identificati, devono essere residenti in Ostuni, votano da 16 anni in su, quindi il voto è aperto anche ai minorenni della fascia dai 16 ai 18 anni e votano anche i cittadini comunitari che hanno la residenza in Ostuni, quindi così facciamo informazione completa. Per quanto riguarda l'appello al voto, noi chiediamo di venire numerosi a votare, proprio per quello che dicevi tu, per utilizzare questo strumento di altissima democrazia che permette ancora di poter scegliere la persona nella quale riporre la propria fiducia, visto che tra l'altro anche le leggi nazionali ormai ci stanno privando di questa possibilità di scegliersi il proprio candidato, perché è quello che purtroppo sta avvenendo con la riforma della legge elettorale. Allora finché abbiamo questa possibilità, questo strumento che fanno decidere a noi, utilizziamolo. E quindi è la prima volta che utilizziamo per l'amministrativa, ma probabilmente si apre un ciclo di utilizzo delle primarie anche magari, chi lo sa, anche per eventi di altra portata, per scegliere l'eventuale candidato in un ente particolare. Per le europee forse non ce la faremo, però è… No, per le europee non penso affatto. Anche perché la circoscrizione delle europee è molto ampia, quindi prevede tutta l'Italia meridionale. Sicuramente, stavo infatti esagerando, però è un'innovazione. E comunque hanno una forza e una potenza straordinaria le primarie, stiamo mettendo nelle mani del cittadino la possibilità di scegliere. È un'occasione molto importante, molto determinante anche per il centro-sinistra di Ostuni, non solo per la scelta dell'uomo, ma anche perché è un test, è un momento anche di verifica di quello che è stato fatto e dello stato di gradimento che c'è stato delle amministrazioni che in questi anni si sono succedute nella nostra città. Quindi noi siamo comunque fiduciosi che ci sarà tanta partecipazione, che tanti ostunesi verranno domenica, tant'è che c'è stata anche un'organizzazione dettagliata della giornata e anche delle modalità di voto per evitare che si creino file e che la gente possa aspettare tanto tempo. Ripeto, noi abbiamo già vissuto altre esperienze di primarie per scegliere il candidato governatore, il segretario di partito, però questa è un'occasione completamente diversa e con un senso e con un significato totalmente diverso. Isabella, tu sei stata in qualche modo promotrice, hai sollecitato questo confronto a tre perché dicevi che effettivamente parecchia gente non sapeva nemmeno di questa opportunità, è un'opportunità che va sfruttata, magari anche noi a livello mediatico quando capiterà nelle prossime occasioni, lo pubblicizzeremo per tempo, stiamo cercando di ovviare con questa trasmissione che non vuole essere esaustiva, però che cosa ancora possiamo dire per far capire l'importanza di questo appuntamento? Assolutamente l'incontro di oggi è molto importante perché si possa comprendere che queste sono primarie, le primarie per le quali si vota domenica 30 marzo, successivamente ci saranno le votazioni per le amministrative a maggio, oggi si sceglie fra questi tre candidati di centro-sinistra, io spero che ci sia una presenza consistente al voto perché abbiamo bisogno di sentire i cittadini vicini e di sentire quale può essere la loro idea, quello che loro vogliono per il futuro di Ustuni? Come ultimo giro di domande vi propongo, fatevi una domanda e datevi una risposta, Nicola scherzo ovviamente, sicuramente come vi dicevo ci sono tanti argomenti che abbiamo, che ho trascurato perché sono il conduttore quindi è la colpa, l'assumo in prima persona di aver trascurato però non si può in così breve tempo riassumere tanti aspetti di una realtà molto particolare, molto politica che è quella della nostra città di Ustuni, io sono stato onorato di avervi avuto ospiti da ostunese, da professionista di questo particolare mestiere che anche lui è in crisi, anche il mestiere giornalistico purtroppo ultimamente risente anche della crisi di ideali, vi ringrazio ma ringrazio soprattutto se me lo consentite gli ostunesi e non solo loro che hanno avuto la pazienza di seguirci da casa. E noi ringraziamo Torreale di Città Bianca per l'occasione che ci ha offerto. Grazie a voi, buona fortuna, nell'interesse della nostra comunità. Grazie. Grazie a voi, buona fortuna.